Taglio del nastro in vista per il palazzetto dello sport di Torrenova. Giovedì prossimo alle 17 verrà ufficialmente inaugurata la struttura polifunzionale dove troveranno ospitalità basket e pallavolo omologata con 600 posti a sedere, spogliatoi e servizi a corredo. Sistemate anche le aree esterne con la realizzazione dei parcheggi e le vie di collegamento con la via Caputo. Il palatorre che sarà gestito dalla neonata associazione locale cestistica torrenovese è stato completato grazie all'input decisivo dell'amministrazione comunale che nell'ultimo anno e mezzo ha ripreso l'opera incompiuta portandola al definitivo approdo. Un grandissimo motivo di orgoglio sia per me che per tutta la giunta, per i consigliati di maggioranza essere riusciti in quasi un anno a inaugurare il palazzetto fermo dal 2006. Già sono nate due nuove società, la cestistica torrenovese e la volley torrenovese che si occuperanno di mini basket, hanno già iscritto anche la squadra in promozione per quanto riguarda la palla a volo ci sarà sempre il mini volley organizzato da questa nuova società. Ospite d'onore per la prossima stagione sportiva sarà il volley brolo che al palasporto di torrenova disputerà gli incontri casalinghi del campionato di serie A2 maschile. Quest'anno, come l'anno scorso del resto, abbiamo trovato veramente grande collaborazione da parte dell'amministrazione Castro Vinci sia del sindaco ma anche dei suoi assessori di tutto veramente l'amministrazione. Una casa a misura nostra, sicuramente non grandissima, però sicuramente accogliente a misura d'uomo. Credo che vada assolutamente bene per quello che sono le nostre esigenze.